musica vogliamo fare in tre le tre casette? no è troppo poco per tre le tre casette secondo me si può andare ovunque andrei a slurpy ah va 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 let's go un pantano un pantano ragazzi un pantano un pantano aggressivo perché il pizza lo sento indietro? io sono dentro il microfono no non entri dentro per favore non lo che chiede chiede documenti no 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 ok ooo porca vacca porca così l'ha passato a chiudere mi ha rotto veramente il coso che ho fatto io? mi ha rotto il barile gigante ho preso 90 di tanto guardi che non sono io eh no 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 io non ho parole non l'avevo vista da me vogliono fare la raffina andiamo da pizza andiamo da pizza in un altro apri apri è uscito ok dietro pizza ok una nooo che schifo che schifo si è festo tira su pizza tira su pizza ah avevo finito i colpi di tromba ecco perché hanno sparato la vedo grigio sparare senza effettivamente qualcuno mi resti per favore? ma io le staccone non lo resto per adesso ascolti pizza è il mio sport preferito ah ma che cosa che sta facendo? va bene bravi bravi dai un appoggio le da un po' di un po' di pulizia ma per favore e per me ha detto che ieri quando hai sbombardato il mouse che mi ha incazzato xuder mi dice l'ho distrutto io entro nel box faccio 118 35 con la scar non muore mi sono girato poi mi rigiro l'ho uccito Ma nello stesso momento mi è tra l'altro Ha capito? Lui me l'ha raccontato un po' in modo diverso Ma no, così è andata Lui mi ha detto, ah guarda Sono entrato in un muro in modo sbagliato E si è incazzato, ha spaccato il mouse Non è andata proprio così Era circa più o meno Nel senso Non sono per nulla d'accordo Io sto sopra, sono rimbasso il cappello Ho rimbasso il pavimento sopra Li ho chiusi, li ho chiusi Sto arrivando Non so cosa fa rica, questo qua c'ha cili infiniti Sto curando Pizze, sei 1 v2 Aiuta Pizze Guarda me, guarda me Guarda me Guarda me Mi ha sbombattato uno Morto uno Uno dietro Io ho chiuso, io ho chiuso Vai 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 Gli ho fatto male ma me l'ho ucciso Peccato L'avete sbombato? Sì, peccato Comunque ne ho tenuti due F Arrivò là Dopo che ha sparato 70 colpi di pompa Gli ha c'è 79 bianco Dico figlia Ma l'è con le mordi Allora c'era 70 colpi di pompa Guardi che non ero io col pompa Io ero con la mitraglia Lei non hit a un colpo Mannaggia Perché? Allora deve abbassare un attimo tutto Che ha rialzato troppo Anche con sei Missa tutto Sì, sì Sono dei problemi tecnici nel Come si dice Il comando cervello mano Non funziona bene Andiamo Ci può, ci può provare Le grandi imprese ragazzi Oh mi cecchino C'è che farà? Guardate con la hit No, no, io li aspetto che vi arrivate Accelere l'essi dovrebbe figurare però se vuole fare questa cosa Eh, questa sarebbe una grande cosa ma non è che posso Tenga Oh grazie Do anche una botta Eccola Easy Pure dietro Eeeh, capito Hanno un poco angolare Davanti a me Se volete venire Sono con F Io Bocsato, morte, morte, morte E' il tuo Bravo, bravo Ok Mi stanno musando ovunque Non è che fare gente vera Leader, ti è nascosto immobile Che vai da morire Lo sto distruggendo Ho distrutto quello il bench Ha troppa gente Mi andrà sotto Vado a fare una scheda Calma Oh La mia non è prendibile Siete morti tutti a due Sì, sì, attenzione Buongiorno Ma come siete morti tutti a due Sì, sì, rimanga assolido Non mi panichi Vado, vado a pantano Fuori che è, stigato Fuori che le palle Oh, attenzione Non spari manco così Si, si ne spara Comunque guardi che se io adesso vi resto Ci spariamo i boccioni e andiamo, eh Eh, la Eh, esatto Guardate che questa qua è tanta Piano nel senso Piano nel senso Si può fare Adesso arriva la safe ma Ne farei 7 chili, non lo ricordo Sì, vabbè, siamo inventi C'è un Non sa mai Non sa mai Non sa mai Io vado Vado i boccioni, eh Sai che andiamo? Non ho materiale e il gun cast Quindi Ferti voi Pizz non c'è Non c'è Non c'è una sfidera Ah, Pizz non è vivo Eh, no Perché Pizz non è vivo? Perché Sono venuto a mancare Ma dai Media Tattico blu E ciao Ok Siamo Sì, sì Sì, si Siamo 15 cristiani 7 kill Non sono fattibili 3 kill 2005 mi dicono Fica che fatica Sì, meno non pump Ma scusi Devo fare 3 kill almeno No, no Da 1 RPG Lasciami la RPG Io non lo lascerai la RPG Riste di farsi del mano Ascolti Pizz Cosa sta dicendo 35 35 Let's go 1 qua Vado, vado, vado Ah, 48 vita Questa c'è 48 vita Sono fusi No, io lo so Calmati, calmati Vado, vado Vado Non vada Non vada Non vada Sicuri Un attimo Intanto gli ha finito il suo Ok, occhio Occiuderemo Fretto 8-20 Io non ci creo 38 Calma, calma, calma Se si ha fretta perde basta Quindi non si ha fretta Se ha delle cure sarebbe tanta roba Venga da me Venga da me Sto piano Sto pianissimo Mi segue Ma mi chiudo Ciuderemo Deve rifornire Eccomi Mi tieni F Mi tieni Sì, tengo 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 Ancora un secondo Ancora un secondo Io da poco sacco Sopra con le banze Gli lancio il razzo Non ha più materiali Ciudere, occhio Ok Ok Spare, spare Spare Dica se si buttano Dosso a lei Prima che lo fanno No, non capisco Dove è il tipo No, non mazzo È rato via Zero mazzo In questo momento No, devi arci Loro Sto arrivando pure io Ok, lo vedo Andate avanti No, qua Sì, erano materiali Non posso fare un caso Morto Hai qualcosa Prendere minelle L'ex Aranzi Guardi un po' Siamo 2V1V1 Fermo Fermo No 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 Buono Buono Quanti materiali ha chiudi a lei adesso? È un totale di 600 Ok È 1V1 Non deve Prendere Avere fretta di ucciderlo Ok Dov'è? Con calma Gestisce Eh che c***o Non so Magari sapeva Magari aveva delle informazioni che io non Ho capito che è forte Non è che c'è La potere Dov'è? 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 Si capite Magari si ha appena fatto Dov'è? Appena è bianco arrivo Sta qua Sta qua Sta qua Sopra Ok 35 bianco 35 bianco Let's go Let's go Ho 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 Che faticato Ragazzoni Ehi Che faticato 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 Che faticato